In questi 30 anni hanno avuto relazioni con... 30 anni di storia racchiusi in 280 pagine di foto, documenti e testimonianze che raccontano la nascita di un'amicizia tra due città. Si chiama Gandia Fano, diario di un lungo viaggio ed è la prima fatica letteraria di Mauro Tallevi, fanese residente a Gandia, in Spagna, che incarna nella sua persona il gemellaggio da lui fortemente voluto e di cui è stato protagonista, tra le due città nelle quali ha vissuto e che ha sempre amato nello stesso modo. È un album fotografico raccontato perché si svolge durante una giornata e una persona vede che io sono l'autore, mi invita a casa sua per spiegargli nei minimi dettagli cosa è successo durante questi 30 anni. E quindi vado a casa sua, mi offre il caffè, poi dopo, siccome è una bella giornata, usciamo e andiamo e portiamo via sempre questo album e così lo commentiamo in diretta e al vivo tutti i passi che sono stati fatti. Per chi sono fanese e mi piace il fanese, pesa un chilo 770 grammi, questo è il mio primo figlio, ecco perché ha durato nove mesi in farlo. Unite dalla storia ed accomunate dalla tradizione culinaria e del mare, oltre che dal carnevale, le due città legate tramite Grazie Mauro e con l'aiuto dell'Associazione Amici Senza Frontiere sono qui raccontate in un libro in vendita alla Mondadori a cura di Silvano Clappis che racchiude fotografie, documenti e storie raccontando Fano e Gandia in tutte le loro diversità e di punti in comune, in quello che è un percorso, dice il sindaco Massimo Seri, di fidanzamento tra due realtà, lontane geograficamente, ma vicine tra loro grazie al gemellaggio. Un libro che diventa un racconto, una testimonianza di questi 30 anni e sono anche quelle occasioni per mantenere anche una memoria e uno storico che sono sostanza, non sono soltanto un momento immediato, anzi i lavori libri rimangono per sempre. Quindi mi sento anche di ringraziare Mauro Tallevi per questo suo contributo che è anche un atto d'amore verso la sua città d'origine, che è Fano, con cui ha sempre mantenuto i rapporti, che vive le due città come se fossero un'unica città. In fondo ogni città è una stanza dell'universo, tutto il mondo è un paese.